Sono risultati che innanzitutto dimostrano che c'è un'Italia spaccata in due. Noi abbiamo un'Italia produttiva, l'Italia che lavora, l'Italia del centro-nord, che vota per una formazione politica che è un progetto chiaro, preciso, di governo. Poi abbiamo un'Italia del sud che invece ha sostanzialmente espresso un voto di protesta ed è un voto che è anche motivato perché la gente del sud è stanca delle promesse, è stanca di vedere le regioni meridionali sempre ultime in Italia e stanca anche di non avere posti di lavoro. Io credo che la proposta sia anche... il voto di protesta derivi anche dal fatto che noi abbiamo due regioni al sud, la Campania e la Calabria, con un tasso di disoccupazione giovanile, la prima del 50%, la seconda del 60%. Quindi è un voto che ha detto chiaramente ai governi regionali che sono quelli che hanno sostanzialmente la podestà in determinate politiche, anche occupazionali, di andare a casa. Io senza mezze misure. E devo dire che è un voto anche condivisibile per certi aspetti perché quando il popolo si ribella e lancia dei segnali così chiari credo che la politica debba riflettere. Io mi auguro da imprenditore e da cittadino che si faccia il governo perché sarebbe una grande sconfitta non fare il governo dopo una competizione elettorale. Non si darebbe quella prova che in Germania è stata data. Voglio ricordare che la Merkel è al quarto governo con i suoi oppositori e ancora una volta la Germania ha dimostrato di avere grande responsabilità e rispetto per i propri cittadini. E mi auguro anche che sia un governo che abbia idee chiare, precise, non idee sparate nel mondo della comunicazione irrealizzabile. Anche il Cilento è stanco. Qualcuno ha parlato di una svolta epocale. Ma la svolta c'è stata. Io credo che nel Cilento è stato eletto un deputato del centro-destra. La Lega ha totalizzato più di 9.000 voti. Quindi anche il voto verso la Lega deve far riflettere. Forse la politica degli immigrati non ha premiato nemmeno i sindaci cilentani.